13esima giornata del campionato over 50, si affrontano Ares BPM e Studio GPR, vediamo chi avrà la meglio Cerca la conclusione in porta col destro, con la Fati, qui conclusione col destro, larga non di molto Giocatore di Ares BPM, poi Pullano in porta col destro, grande risposta di Mattano Vediamo se c'ha la seconda chance, sì, dentro forte, la palla resta lì e viene sparata via Scropani in porta, miracolo del portiere, doppio miracolo, e Cano Amoroso, terzo miracolo, Tipasi che si supera Calcio in porta, c'è la deviazione, ancora bravissimo Mattano Guicciardi col destro, e arriva il vantaggio di Studio GPR con il capitano Guicciardi Pullano al volo col destro, fuori di nulla Imposta lui col destro, tocco per Mazzocchi, che mette giù, ma non riesce a coordinarsi per la conclusione Fa invece Mazzocchi col destro, la blocca e la tiene, Mattano Pullano Va in porta col destro, e trova un gol, capolavoro, il 45 di Ares BPM 1-1, finisce qui, finisce 1-1, una partita bella, equilibrata Allora, siamo qua con Capitano Guicciardi di Studio GPR Oggi partita tosta, combattuta, sotto la pioggia, come l'hai vista? È dura, perché il campo è molto grande, poi come sempre quando si gioca in orizzontale sui campi grandi è difficile Partita equilibrata, peccato che hanno pareggiato alla fine, ma tutto sommato direi il risultato giusto Adesso vi chiedo, quanta voglia avete di giocare anche con un tempo così, a quest'età qua, quanto è bello anche sotto la pioggia? Va bene anche così, guarda, finché riusciamo a giocare andiamo avanti, poi quando non ce la faremo più smettiamo Perfetto, complimenti Capitano e la prossima Ciao, grazie mille